Il rettore dell'Università di Teramo Dino Mastrocola nella tradizionale conferenza di fine anno ha ripercorso tramite un video tutte le tappe del 2022. Un grande lavoro quello dell'Ateneo Teramano per rimanere sempre vicino ai propri studenti e attrarre nuove iscrizioni che nonostante le tante difficoltà sono arrivate. È stato un anno intenso, un anno bello, intenso, un anno in cui siamo usciti dal covid, un anno in cui abbiamo consolidato delle progettazioni e sono arrivate delle novità legate alla ricerca, legate alla impostazione della didattica, facendo tesoro un po' di quello che avevamo fatto durante il covid, quindi il lockdown, utilizzando nuovi strumenti. Abbiamo intensificato i rapporti con il territorio e l'Università di Teramo sempre più protagonista. Numeri positivi quelli del 2022 sia per la crescita in termini di considerazione e numero di iscrizioni, sia per l'avvicinarsi di un anniversario importante, il trentesimo anno dell'Unite. Nel 2023 infatti l'Ateneo Aprutino festeggia il suo terzo decennio di autonomia dopo il distacco dall'Università di Chieti Pescara, nel grembo della quale era nato. Stiamo trovando nuovi sistemi per migliorare la didattica e per affrontare una delle problematiche delle università italiane, che è la dispersione, che dopo il covid è diventato un problema non indifferente. e faremo ovviamente delle iniziative proprio per il trentennale, oltre quelle che facciamo normalmente. Ho fatto un po' i conti, togliendo le festività e le vacanze abbiamo un'iniziativa ogni due giorni, quindi sarà difficile aumentare, però lo faremo ancora una volta.